guerra delle bollette dell'acqua finite in prescrizione fra comuni e cittadini questo perché alcuni comuni dell'alto casertano e non solo pretendono comunque di ingassarle incaricando addirittura legali esterni all'amministrazione comunale perché si diffidino gli utenti ma i consumatori possono rifiutarsi di pagare le fatture arrivate con eccessivo ritardo noi lo abbiamo chiesto l'avvocato ivana russo dell'unione nazionale consumatori e sentite che cosa ci ha detto l'utente può rifiutarsi di pagare in quanto c'è stata una normativa che è entrata in vigore già dal 2017 la legge di bilancio 2018 la quale ha stabilito ha scadenzato un po' la prescrizione per quanto riguarda acqua luce e gas ed in particolare all'articolo 1,4 di questa legge 205 del 2017 ha stabilito che tutte le fatture che sono emesse e che hanno scadenza dopo il primo gennaio 2020 non possono avere un consumo quindi contenere un consumo superiore agli ultimi due anni e la data di scadenza è importante della fattura perché dalla data di scadenza che si calcola la prescrizione quindi se abbiamo una data di scadenza che va oltre il 2020 possiamo eccevire la prescrizione. Ecco che cosa occorre fare per non pagare poi gli importi fatturati con ritardo? Ecco questa è una domanda alla quale ci tengo particolarmente a rispondere in quanto vorrei sfatare un mito perché la prescrizione per quanto riguarda il servizio idrico non è automatica pertanto l'utente deve farla valere e la può far valere solo se notifica un reclamo quindi fa un esposto fa un reclamo all'ente o al gestore nel caso appunto che ci occupa oggi di cui stiamo parlando in questo caso all'ente comunale che ha emesso le fatture con estremo ritardo. La prescrizione può essere chiesta da tutti? La prescrizione può essere chiesta da tutti, le delibere a Rera ma anche la legge di bilancio e soprattutto la delibera 547 del 2019 sul servizio idrico hanno specificato che la prescrizione può essere chiesta da tutti i consumatori dalle partite IVA e anche dalle piccole e medie imprese. Ci tengo a precisare che questa stessa delibera ha stabilito che quando gli enti praticamente notificano fatture che sono successive al primo gennaio 2020 sono tenute anche ad allegare un modulo alle fatture nella quale facilitano l'esercizio della prescrizione pertanto diciamo allegati a queste fatture relativi all'anno 2015, 16 e 17 ovviamente fatture di conguaglio doveva essere allegato un modulo per facilitare l'esercizio del diritto alla prescrizione o comunque informare la cittadinanza che si trattava di crediti prescritti. Senta avvocato, alcuni comuni non vogliono riconoscere la prescrizione, quali sono i prossimi passi della sua associazione? Allora guardi, noi intendiamo difendere il cittadino in tutti i sensi, pertanto innanzitutto come è di consueto onere ma anche diciamo costume delle associazioni consumatori e ovviamente costume anche della mia associazione che è l'Unione Nazionale Consumatori, stiamo facendo innanzitutto un esposto all'antitrust e in arera in quanto questi sono organi che sono deputati alla vigilanza e al controllo non soltanto riguardo alla pratica commerciale scorretta nel caso della GCM ma anche come rispetto della fatturazione e dei termini di prescrizione per quanto riguarda l'arera. È ovvio che se dovesse proseguire così come immagino che succederà dovremo difenderci in ogni sede. Se questo significherà arrivare in Cassazione, arriveremo in Cassazione. Se ci sarà un problema interpretativo sollevato dagli enti comunali, cercheremo di risolverlo davanti agli organi competenti. In ogni caso non è escluso che noi come associazione ci muoveremo anche in direzione di una class action. Lei è un avvocato, ma è un avvocato si può dire volontario? Ci vuole spiegare meglio? Io sono un avvocato volontario, se così si può dire e forse deolontologicamente non è corretto, in quanto metto la mia professione al servizio della gente. Quello che ho sempre sognato di fare mi viene naturale, soprattutto stare dalla parte del cittadino. A volte il cittadino vuoi per questioni culturali, vuoi per questioni sociali, per stile di vita, per tante questioni, si trova a non potersi difendere. E quindi noi abbiamo il dovere morale di difendere le persone che non si possono difendere.